Qualche giorno fa ci ha chiamato una ragazza che ha trovato in una scatola vicino ai cassonetti a Siciliano quattro gattini con gli occhi chiusi. Ancora gattini appena nati e abbandonati. Dopo il grave episodio di Pestello in Valdarno dove dei mici erano stati chiusi dentro due sacchetti e gettati in un cassonetto, adesso un altro caso alle porte della città. Per fortuna abbiamo trovato due baglie, li abbiamo divisi due e due. I gattini stavano bene, non erano piccolissimi nel senso che forse una settimana ce l'avevano quindi almeno un pochino di colostro della mamma l'hanno preso, quindi speriamo che vada tutto bene. Per ora sono vitali, mangiano, qualcuno ha iniziato ad aprire gli occhietti. Ricordiamo però che questo è un reato. Sì, assolutamente. Anche a Castiglion Fiorentino un episodio simile come denunciato dal veterinario Alberto Brandi. Fortunatamente in questo caso i gattini hanno trovato una gattabalia. A parte che basterebbe sterilizzare, ma anche il discorso più semplice. Hai la gatta che ti partorisce, che cosa ti costa lasciare i gattini con la loro mamma? Fa tutto la mamma, ti non spendi niente, il latte glielo dà la mamma, li pulisce la mamma, non ti sporcano. Poi dopo, quando sono autosufficienti, uno gli trova un'adozione, ci chiama, ci contatta, veniamo in conto. Ma fare una cosa così nel 2024 per me non è possibile. Nonostante i continui appelli alla sterilizzazione, anno dopo anno lo stesso copione drammaticamente si ripete gattini aperanati e abbandonati o d'orfani e così anche l'EMPA cerca valie umane. Forniamo tutto noi, latte, mangiare e una volta poi svezzati i gattini li riprendiamo noi e cerchiamo adozione.